Abitare a 10 minuti dal centro storico e dalle principali facoltà dell'Apneo Cittadino in un immobile dotato di impianti tecnologici d'avanguardia e con tutti i servizi necessari a facilitare la vita di uno studente. Il centro formativo ONAOSI a Bologna permette tutto questo. La struttura nelle immediate vicinanze dello stadio Dallara si sviluppa su cinque piani e garantisce il servizio di portineria ad orario continuato. All'interno mini appartamenti con camere singole doppie, ciascuno con il proprio angolo cottura e con copertura wifi gratuita, consentono di ospitare 116 studenti che nel centro trovano sale studio, sale computer, lavanderie self-service. La residenza offre servizio biancheria da letto e servizi di pulizia dei luoghi comuni e degli alloggi. Il servizio di tutoring svolto da ragazzi selezionati tra gli ospiti fornisce inoltre un sostegno attivo a tutti gli studenti della struttura supportandoli nel loro percorso universitario. Per integrare il curriculum accademico e accrescere le competenze di ragazze e ragazzi vengono organizzati periodicamente eventi culturali e incontri con esperti su temi d'attualità e di interesse per il percorso degli studenti.